salve a tutti ragazzi oggi vi faccio vedere una chicca che sicuramente non troverete da nessun'altra parte su youtube italia e ne vado molto fiero mox nox di joan cornellà magari così vedendo solo la copertina e vedendo solo queste immagini non vi tornerà a mente niente ma sicuramente l'avete visto su facebook io mi sono convinto che avete visto almeno una vigneta di questo vignettista questa è l'edizione fatta in non crowdfunding ma comunque è stata autoprodotta dall'autore quindi non è assolutamente reperibile è proprio la prima edizione col papero ne fece un'altra successivamente ma col coniglio o con qualcos'altro mi ricordo e per l'appunto per l'occasione fece queste edizioni di tiratura limitata di 100 coppie la mia è la quindicesima e ha firmato quindi abbiamo l'albo a tiratura originale a tiratura limitata prima edizione autoprodotta firmata tiratura limitata 100 coppie e all'interno ci sono i primi lavori l'edizione che è uscita dell'iris edizioni è mox nox però mi sembra che abbiano aggiunto altre vignette che l'autore fece successivamente sul suo profilo facebook diciamo quindi ne vado molto fiaro perché diciamo questo posso vantarmi di dire io conoscevo joan cornellà ancora prima che diventasse così virale su facebook quindi niente spero che questo video vi sia piaciuto per le curiosità sempre scrivetevi nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao